Ancora denunce per Fontanelli i suoi residenti, Domenico Pettinari torna a farsi portavoce dei cittadini ormai costretti a vivere in case fatiscenti e in condizioni di sicurezza scarse. Nel mese di dicembre la protesta era arrivata sotto al palazzo della regione a Pescara, ma poi nulla più si è mosso. Intanto vorremmo capire, i cittadini vorrebbero capire, il presidente della regione e il sindaco di Pescara dove sono. No, perché da mesi che li chiamano, li cercano, il presidente dell'associazione insieme a Fontanelli ha inviato anche una lettera formale per una richiesta d'incontro. Mesi fa ci ha fatto aspettare diverse ore doveva venire il presidente della regione, non è venuto perché il presidente della regione, la regione, è proprietaria delle case ATER. Case ATER che qui stanno letteralmente cadendo, adesso addirittura degli intonaci esterni delle case si staccano, cadono a terra, quindi mettendo a serio rischio l'incolumità dei cittadini. Non ci sono risorse necessarie per risolvere questi problemi e il problema all'emergenza sicurezza non solo permane, ma è aumentato a livelli stratosferici. Si continua a spacciare sotto i palazzi, dentro i palazzi, i cittadini ci contattano, ci chiamano in piena notte, problemi seri, c'è grande paura, tutti problemi irrisolti. Ma intanto la cosa principale è che ristrutturassero le case popolari, purtroppo non si vede nulla. I residenti vivono in condizioni di scarsa salubrità come ci mostra un inquilino che ci apre le porte di casa sua, umidità sui muri, infiltrazioni di acqua e problemi di salute. E adesso chiedono aiuto e un intervento alle istituzioni per ottenere un miglioramento delle condizioni di vita. Grazie Grazie